Salve a tutti e benvenuti sul nostro canale, Il Pensiero Non Lineare. Sono Giannaro Rinaldi, psicoterapeuta. Continuo anche oggi il nostro affascinante viaggio nel mondo della psico-umana. In questa tappa del nostro viaggio viaggeremo attraverso le numerose e ormai infinite strade della rete, alla scoperta del mondo virtuale e dei pericoli che nascondono le sue intricate maglie, in cui spesso si resta imbriati. Parleremo della faccia virtuale della dipendenza. Quella da internet. Ma, come per ogni etapa del nostro viaggio, il mio invito è quello di provare a rilassarvi prima di partire. Assumite quindi una posizione comoda e confortevole. Adesso chiudete gli occhi. Fate un bel respiro profondo. Fatene un altro. Adesso che siete rilassati e tranquilli, siete pronti per partire. L'internet addiction disorder, o disturbo da dipendenza da internet, è un termine ampio che descrive un disturbo del controllo degli impulsi, caratterizzato dal trascorrere troppo tempo su internet, sui siti di incontri, scorrendo i social media, giocando online, guardando video su youtube. Nel 2013 questo disturbo è stato inserito nella sezione 3 del DSM-5. Ciò significa che praticamente è stato inserito tra i disturbi di dipendenza patologica, ma era più che altro una proposta nosografica diagnostica che necessiterà in questi anni di ulteriori studi sperimentali prima della sua validazione vera e propria come diagnosi. Diversi studiosi affermano che la dipendenza da internet non può essere classificata come uno specifico disturbo psichiatrico, ma deve piuttosto essere considerata come un sintomo psicologico che si può manifestare nell'ambito di diversi quadri psicopatologici. Ma adesso veniamo un po' alla storia di questo disturbo, perché è una storia abbastanza lunga. Infatti è Ivan Goldberg, uno psichiatra nordamericano nel 1995, a parlare per primo di Internet Addiction Disorder, di Yad, in una newsletter, ma in realtà i sintomi che lui aveva descritto erano per lo più inventati. Fu poi in seguito Kimberly Young nel 1996 a studiare il fenomeno, proponendo una ricerca online attraverso un questionario, l'Internet Addiction Survey, che venne somministrato tramite email. Ovviamente i metodi di somministrazione non furono a livello psicometrico corretti, ma furono utili per proseguire poi nelle ricerche. Ancora più tardi, un po' di tempo dopo, fu Sherry Tarkol, con il suo lavoro La vita sullo schermo, a studiare più ampiamente l'impatto delle nuove tecnologie sulla vita dell'uomo. Pensate che Goldberg, lo psichiatra che per primo parlò di Yad, nonostante abbia inventato di sana pianta quei sintomi, fu a sua insaputa un abile premonitore del problema. Parla ad esempio di movimenti involontari, il typing con le dita. Adesso sappiamo che questo tipo di sintomo può presentarsi anche in chi soffre di Internet Addiction. Come le altre dipendenze, anche la Yad interferisce con la vita sociale, la vita coniugale, con il lavoro, generando anche problemi economici. Se si è disconnessi, si crea uno stato di malessere e di disagio, di astinenza in chi lo vive, un'impossibilità di scollegarsi anche quando lo si desidera. La percezione del tempo quando si è connessi è distorta. La possibilità di connettersi diventa un pensiero fisso. La regolazione delle proprie emozioni è legata all'utilizzo della rete. Spesso si svaluta la propria vita reale a favore di quella virtuale, con la sensazione che le relazioni online siano più soddisfacenti. Si ha inoltre una tendenza ad alterare la propria identità e la tendenza a controllare a intervalli regolari la propria posta elettronica, la propria bacheca sui social, i video preferiti, provando un senso di spiacevolezza se non vi sono novità, se non vi sono news che possono arrivare o like che magari ci aspettiamo da qualche persona. I soggetti più a rischio sono quelli compresi nella fascia d'età tra i 14 e i 50 anni, che hanno difficoltà comunicative, che potrebbero legarsi a problemi psicologici, psichiatrici, relazionali e familiari. Altri fattori di rischio possono riscontrarsi nell'elevato grado di informatizzazione ed isolamento di ambienti lavorativi e nell'isolamento anche geografico. Sono poi più a rischio quelle personalità caratterizzate da tratti ossessivo-compulsivi, tendenti al ritiro nelle relazioni sociali e con un'inibizione dei rapporti interpersonali. Il soggetto che ne soffre tenderebbe così a rifugiarsi nella rite per sfuggire alle proprie problematiche, come un vero e proprio comportamento di evitamento. Secondo Kimberly Young, la dipendenza in internet si sviluppa in tre fasi. C'è una prima fase di coinvolgimento, che è caratterizzata da un crescente bisogno della persona di aumentare il tempo trascorso in rite, che è spinto dalla curiosità e dalla voglia di sperimentare e di perfezionare la propria conoscenza di una particolare applicazione di internet oppure sullo smartphone e che più delle altre lo ha attirato. È la fase di larker, dei guarduni, che polarizzano la loro attenzione ossessiva verso alcuni elementi della rite che interessano in particolare. In una seconda fase, nella fase della sostituzione, si ha un'immersione più profonda nella rite e nelle attività relazionali che si intraprendono. Ciò comporta un aumento progressivo delle ore spese online, attraverso ovviamente tutti i dispositivi, e si ha un senso di malessere quando si è offline. Questa è la fase in cui si ha una partecipazione molto intensa a tutte quelle che sono le attività intraprese online e quindi si cominciano ad avere anche i primi sintomi legati all'astinenza, quindi ansia, agitazione, fantasie e sogni legati al mondo della rete, dei social, di internet, del gioco online, il typing con le dita, quello di cui parlavamo prima. Tutti elementi che sono osservati anche sperimentalmente in vari esperimenti che sono stati fatti nel corso di questi anni. nella terza fase invece c'è la fase della fuga, è quella in cui si può osservare realmente la dipendenza della persona che è totalmente immerso nella rete. È caratterizzato da un incontro diretto con i siti, con i social che si stanno utilizzando, che determina la compromissione anche della vita relazionale, sociale e familiare, anche lavorativa. In questa fase può anche compromettersi, anzi si compromette sicuramente anche la salute della persona a causa della deprivazione ad un'indotta di sonno e di un'alimentazione scorretta, sbagliata, insufficiente. Quindi l'internet addiction è molto simile ad altri tipi di dipendenze. è un discorso che può riassumersi più o meno in questo modo. Un aumento del tempo trascorso online, la suefazione, la sindrome di astinenza e la dipendenza. Quindi l'internet addiction è una definizione ampia che però nel corso del tempo ha visto includere al suo interno tutta una serie di di psicopatologie che si distaccano anche dalla IAD e che vanno a definire altri aspetti dell'uso e dell'abuso dei mezzi social. Nella rete, in tutto ciò che ruota intorno ad essa, l'individuo si presenta come in un mondo parallelo, simile al reale e in un certo senso ha esportato in anche il proprio disagio. Nel mondo del virtuale è quindi possibile osservare numerose sfaccettature del comportamento psicopatologico. In seguito furono dei psicologi ricercatori italiani, Cantelmi e D'Andrea, in un loro lavoro, fenomeni psicopatologici e osservazioni cliniche, a definire anche quest'altra tipologia di dipendenze che riguardavano internet, la rete e tutto quello che ci gira attorno. Nel loro lavoro evidenziarono alcuni altri tipi di psicopatologie come ad esempio il gioco d'azzardo online, la dipendenza dal cyber-sesso, la dipendenza dalle relazioni online, la dipendenza dal gioco, dai giochi online e la dipendenza dalle eccessive informazioni, lo shopping online compulsivo, la dipendenza dai social network. Insomma, hanno poi definito tutta una serie di dipendenze, di disturbi che tuttora si stanno prendendo in considerazione. Sempre la Young, poi, ha individuato nel suo Center for Online Addiction tre fattori predisponenti e facilitanti per l'insuggere di disturbi che ho accennato anche prima e che hanno trattato anche Cantilmi e D'Andrea. L'accessibilità, per esempio, che con l'avvento di internet, i tempi e le modalità di accesso a determinati servizi, come anche per esempio lo shopping, oppure anche al gioco d'azzardo alle relazioni sessuali, alla pornografia, si sono facilitati moltissimo. Ciò ha reso possibile una gratificazione immediata per le persone, per chi ne usufruisce. Inoltre, dice la Young, c'è un controllo totale e onnipotente di tutte le attività che si possono svolgere online, con il computer oppure con gli smartphone di ultima generazione. E c'è anche un'eccitazione per tutte le possibilità che dà questo tipo di navigazione, questo tipo di fruibilità veloce e senza limiti. Senza dubbio la presenza di stimoli visivi o di tv accattivanti e sorprendenti, insieme alla possibilità dell'anonimato e della totale libertà, rendono anche questa esperienza, la navigazione, molto più interessante di quello che poi una persona può vivere ed incontrare nella vita reale. Bene, anche per oggi la nostra tappa finisce qui. Non mi resta che salutarvi ed invitarvi alla prossima tappa e ricordate finisce bene quel che comincia male. Grazie per l'ascolto. Alla prossima.